Buonasera, bentrovati alla seconda edizione del Tg6 che noi apriamo con la cronaca purtroppo ancora con l'ennesimo incidente mortale accaduto sulle strade della nostra regione. Ancora un incidente, ancora sull'asse attrezzato e sempre nei pressi del viadotto del centro commerciale d'Abruzzo, stesso punto in cui l'11 aprile scorso perse la vita una coppia di anziani di Chieti. Questa volta l'incidente mortale è costato invece la vita ad Ettore Liberato e Dionisio, 55 anni, ragioniere in un'azienda di Bucchianico ed ex consigliere comunale di Torrevecchia Teatina. Suo paese d'origine di residenza, Dionisio a bordo della sua Smart era proprio diretto verso la sua abitazione in Contrada Castelferrato, quando poco dopo le 22 c'è stato il terribile schianto in cui sono rimaste coinvolte altre due vetture, una Fiat Bravo e una Opel Adam. La ragazza, la guida della Opel, è stata ricoverata all'ospedale di Pescara, mentre per Dionisio non c'è stato nulla da fare. Sull'esatta dinamica dell'incidente stanno indagando gli agenti della Polizia Stradale. Dopo i numerosi incidenti di questi ultimi mesi, proprio in quel punto dell'asse attrezzato, come altri del raccordo autostradale, il limite di velocità è stato abbassato da 110 a 90 km orari. E il sostituto procuratore della Repubblica di Chieti, Mari Caponziani, ha disposto l'autopsia su Ettore Liberato Dionisio. L'incarico verrà affidato domani e l'autopsia sarà effettuata il prossimo 22 agosto. L'ipotesi di reato è quello di omicidio stradale e i conducenti di Andrampé, le auto, sono stati proprio indagati per questo reato. E oggi gli uomini della Polizia Stradale di Chieti, diretta dal comandante Francesco Cipriano, hanno compiuto rilievi e accertamenti sul luogo dell'incidente e hanno consegnato al magistrato una prima relazione. Sull'incidente i tre mezzi coinvolti sono stati posti sotto sequestro. Lasciamo la cronaca, ci spostiamo a Pescara. È stato ascoltato dalla Commissione Disciplinare del Comune Pasquale Solari, il vigile accusato di assenteismo in un'inchiesta delle fiamme gialle. Il maresciallo non ha risposto, ma entro fine mese presenterà una memoria difensiva. Alfredo Primante. Ha scelto la via del silenzio Pasquale Solari, il vigile accusato di avere marinato per mesi il lavoro oggetto di un'inchiesta condotta dalla Guardia di Finanza di Pescara. Davanti alla Commissione Disciplinare del Comune Pescarese non ha risposto nonostante rischi il posto di lavoro. Il maresciallo della Municipale, 61 anni, è accusato di truffa pluriaggravata ai danni del Comune perché, per l'accusa, timbrava il cartellino ma poi si dedicava ad attività che nulla avevano a che fare con il suo compito, cioè quello di pattugliare l'area della riserva d'Annunziana. Parallelamente all'inchiesta penale corre dunque anche il procedimento disciplinare intrapreso dal Comune di Pescara, con Solari che dal momento dell'arresto è stato sospeso dal servizio. Davanti alla Commissione composta dal Direttore Generale Pierluigi Caputi, dal Vice Guido Dezio e dal Comandante della Polizia Municipale Carlo Maggitti, il vigile si è limitato ad annunciare che presenterà una memoria difensiva redatta assieme ai suoi legali, gli Avvocati Massimo Solari e Pasquale Provenzano. La memoria dovrebbe essere consegnata nelle mani della Commissione entro la fine del mese, mentre la procedura dovrebbe concludersi entro il mese di novembre. Nel passato di Pasquale e Solari ci sono anche altri provvedimenti disciplinari emessi dal Comandante Maggitti, perché il maresciallo non rispettava la consegna di timbrare il cartellino all'interno del Comando di Via del Circuito. Ancora cronaca, ci spostiamo a Lanciano, dove i carabinieri stanno indagando su un sospetto incendio doloso che la notte scorsa si è sviluppato all'interno di un appartamento del centro storico in Via Garibaldi. Secondo i primi sospetti, il fuoco sarebbe stato alimentato dall'accezione di una bombola a gas. Il proprietario dell'appartamento è rimasto fortunatamente illeso. Lo sprigionarsi delle fiamme che hanno maggiormente danneggiato la zona notte ha messo in allarme i residenti del quartiere, sul posto anche i vigili del fuoco impegnati fino a mezzanotte. L'indagine cercherà di appurare se ad appiccare il fuoco sia stato qualche conoscente del padrone di casa, oltre ad individuare la natura e il movente proprio di un eventuale atto doloso. Cambiamo pagina, l'Aquila è polemica dopo il blitz delle forze dell'ordine nell'asilo occupato. Noi con Salvini ne chiede l'immediata chiusura. Germana Dorazio. E' arrivato il momento di chiudere il cosiddetto asilo occupato. Ad affermarlo è Francesco De Santis, membro del coordinamento regionale di Noi con Salvini Abruzzo e componente del Consiglio Territoriale di Partecipazione numero 7. De Santis interviene in seguito all'inchiesta della squadra mobile dell'Aquila che ha scoperto la presenza di droghe, hashish, metanfetamina e speedcocaina all'interno del cosiddetto asilo occupato. La struttura, un ex asilo comunale del centro storico, danneggiata dal terremoto, è occupata da oltre 5 anni, nonostante lo stato di inagibilità, da gruppi di giovani che l'hanno trasformata in centro di aggregazione. Gli spazi autogestiti sono beni comuni costruiti dal popolo. Con questo slogan viene difeso dagli occupanti il presunto diritto di dimorare nell'asilo. L'inchiesta per droga, secondo De Santis, conferma le denunce che da anni sono state fatte sulle attività che si svolgerebbero nell'asilo occupato. Il Partito Democratico, dice De Santis, non ha mai voluto fare chiarezza sui dubbi che l'intera cittadinanza aveva riguardo le attività ricreative che si svolgevano nell'asilo, mentre adesso la polizia ce ne ha dato conferma. Droga e spaccio in pieno centro storico in uno stabile pubblico occupato da associazioni di sinistra, che non hanno mai ricevuto l'ordine di sgombero da parte dell'amministrazione aquilana, si legge nella nota. Ricordiamo tutti il segretario del PD Aquilano in un comunicato datato 2014, che affermava che le associazioni che hanno dato vita all'esperienza dell'asilo occupato hanno svolto una funzione sociale importante. E ora di porre fine a questo scempio, conclude la nota dell'esponente di Noi con Salvini Abruzzo, invitando a chiudere l'asilo occupato. E proseguono a Giulianova gli interventi contro l'abusivismo da luglio ad oggi e il settimo blitz, quello portato a termine dalla Polizia Municipale, Carabinieri, Polfer e Guardia Costiera, tra stazione ferroviaria e spiaggia. Prevenire l'abusivismo sul litorale di Giulianova è questo l'obiettivo dell'operazione congiunta di Polizia Municipale, Carabinieri, Polizia Ferroviaria e Guardia Costiera, coordinata da Questura di Teramo, la settima effettuata a Giulianova dal mese di luglio. I controlli vogliono contrastare soprattutto il fenomeno della contraffazione dei marchi e della vendita abusiva e quindi la rete illecita di acquisizione, immagazzinamento e trasporto delle merci destinate al commercio ambulante estivo. Diverse persone di nazionalità straniera sono state identificate e controllate presso la stazione ferroviaria con il sequestro di capi di abbigliamento ed accessori. L'operazione interforze svoltasi contro il commercio abusivo al comune di Giulianova tende a dimostrare il fatto che noi siamo perfettamente coscienti che il territorio del nostro comune è particolarmente appetibile per il commercio abusivo, ma è anche altrettanto vero che tutto questo impegno va a dimostrare che il nostro comune è inospitale nei confronti di ogni e qualsiasi forma di commercio abusivo. Siamo a fianco dei nostri commercianti, sappiamo che questa pratica è del tutto illegale e vogliamo anche in particolar modo sensibilizzare cittadini e turisti che molte volte non si rendono conto di stare commettendo un reato nell'acquisire merci abusive e soprattutto spesse volte di mettere a rischio la propria salute e quella dei propri figli acquistando merce pervenente da laboratori non certificati e nella maggior parte dei casi trattati con sostanze nocive. E a Montesilvano proseguono le operazioni di bonifica e messa in sicurezza della discarica abusiva di Villa Carmine dopo il sequestro avvenuto nel mese di aprile. L'amministrazione comunale è intervenuta autorizzando l'aspirazione di 800 quintali di percolato che sarebbero potuti finire nelle fiume Saline. Francesca Romanatesti. 21.000 metri quadri di discarica abusiva sequestrati dalla Guardia Costiera di Pescara lo scorso 6 aprile. Il sito è quello di Villa Carmine a Montesilvano. La prima preoccupazione era stata subito quella della messa in sicurezza dell'area per evitare lo sversamento nel fiume dei Liquami. La seconda invece è quella della bonifica che richiedeva una somma di denaro fuori dalle possibilità del comune in causa. Da lì la richiesta di intervento alla regione con l'avvio di un tavolo tecnico. Dopo uno studio concentrato sulla possibilità di erosione della sponda del fiume il Genio Civile ha disposto un intervento di 230.000 euro in favore di Montesilvano per i lavori di intervento. Nel frattempo l'amministrazione Maragno con un investimento di 25.000 euro ha avviato le operazioni necessarie per fronteggiare il rischio percolato aspirando i liquidi che si erano depositati proprio in prossimità delle sponde del fiume. 800 quintali che nel caso di pioggia sarebbero potuti finire in acqua. Il Liquami poi è stato stoccato in cisterne di proprietà del comune. Il dissequestro dell'aria è avvenuto nel mese di maggio e intanto si procede alla calendarizzazione dei prossimi interventi necessari per la definitiva bonifica. La prossima settimana sono in programma controlli per la verifica di eventuali fughe di percolato e monitoraggi per l'eventuale realizzazione di barriere drenanti. Una spesa di ulteriori 80.000 euro. Sembra restare il nodo della definitiva bonifica richiesta dal Ministero dell'Ambiente o la delocalizzazione più volte richiesta dai governi precedenti. L'aspetto economico infatti resta di difficile soluzione. Andiamo avanti ancora con il nostro telegiornale. Non sono riusciti a raggiungere la vetta del Gran Sasso ma è comunque riuscita la manifestazione dimostrativa del Comitato Abruzzese per il No al referendum costituzionale che deciderà sulla riforma voluta dal governo Renzi. La cordata di scalatori per il No non è riuscita ad arrivare a quota 2.914 metri a causa dell'improvviso peggioramento del tempo ma si è fermata sul 2007 dimostrando che la vetta può comunque essere raggiunta con una montagna di No e così che l'iniziativa simbolica del Comitato regionale Abruzzo del coordinamento di democrazia costituzionale per il No al referendum costituzionale ha raggiunto un parziale obiettivo. La scalata al versante ovest del Gran Sasso d'Italia dal titolo in vetta per una montagna di No spiega una nota del Comitato stesso ha acquisito un'importanza simbolica sulla possibilità di arrivare su una vetta apparentemente irraggiungibile a causa della disparità di mezzi di informazione e vincere questa battaglia cosa che sembrerebbe impossibile come scalare la vetta più alta dell'Appennino. I componenti del gruppo torneranno entro la settimana prossima per raggiungere e chiudere dunque la simbologia della scalata alla montagna di No. Intanto per sabato 20 agosto all'Aquila città è prevista alle 10.30 una conferenza per la presentazione del Comitato delle Donne del Sì al referendum costituzionale organizzata dalla senatrice Stefania Pezzupane. I rifiuti si fanno arte, questo è il nome del progetto che vede coinvolte le quattro province della nostra regione che si pone l'obiettivo di educare anche i turisti alla raccolta differenziata si tende a raggiungere un'economia circolare capace di trasformare i rifiuti in vere e proprie opere d'arte. I rifiuti si fanno arte, la regione sottoscrive un protocollo d'intesa con l'Associazione di Consumatori Arco per mettere in pratica la cosiddetta economia circolare. Tra gli obiettivi prefissati ci sono la realizzazione di un laboratorio sperimentale di attività per la riduzione della produzione dei rifiuti, la valorizzazione dei rifiuti a fini turistici e artistici, sensibilizzare gli operatori turistici, promuovere attività di compostaggio di comunità nelle strutture turistiche e promuovere lo scambio di buone pratiche ambientali. Questa attività che noi abbiamo messo su insieme a Arco Consumatori inirisce un'attività di campagna di sensibilizzazione nei confronti dei turisti, i turisti che stanno sia sulla costa che in montagna, che tende quindi a ottimizzare il tema della differenziazione dei rifiuti, quindi del riutilizzo dei rifiuti, attraverso un'attività ludica che tende a realizzare degli oggetti utili con gli stessi rifiuti. Gli attori di questa attività saranno principalmente i turisti. Intanto faremo un primo momento di evidenza pubblica con una mostra ad hoc. Dipenderà anche molto dalla risposta che noi avremo da queste 12 strutture turistiche che sono sparse su tutta la regione e su tutti e quattro i territori provinciali. Credo che unire questa attività insieme alle altre che noi storicamente facciamo nei confronti della giovane popolazione abruzzese, per esempio nelle scuole, credo che possa aiutare l'intero processo che sta procedendo secondo diverse linee di azione. Questa è una di esse. Cambiamo ancora pagina. Questa sera sarà chiuso al traffico il quadrilatero dello shopping di Pescara per dare vita alla notte dedicata al commercio. Pescara Shopping popolerà le vie del centro di eventi e spettacoli. È la notte dello shopping a Pescara. La città si trasforma in un centro commerciale naturale che si popola di artisti e spettacoli che faranno da cornice al passeggio, alle compere, agli incontri di una notte estiva. E domani poi appuntamento con la musica di Fiorella Mannoia in programma all'Arena del Mare. Un evento prettamente dedicato al commercio, allo shopping nel quadrilatero, in quello che viene definito il centro commerciale naturale della città. Avremo 15 micro eventi nelle vie del centro, dislocati con band live che suoneranno vari generi di musica, la notte bianca degli sposi su Piazza della Rinascita e poi tanti appuntamenti anche organizzati dagli esercenti a cui l'amministrazione ha riconosciuto la gratuità dell'occupazione del suolo pubblico e dei diritti della SIAE. Avremo il parcheggio dell'area centrale, l'area di risulta, gratuito a partire dalle ore 17. Chiuderemo sia Corso Vittorio Emanuele che Via Nicola Fabrizi dalle ore 17.30 per questa serata che vuole essere di rilancio rispetto al settore commerciale della città, della chiusura dei saldi, un appuntamento che richiamerà tante persone nel centro e siamo contenti affinché tante persone arrivano e si possano intrattenere nel nostro centro cittadino. Domani invece un altro appuntamento importante è quello con il concerto di Fiorella Mannoia. Sì, poi anche stasera avremo un appuntamento, la festa dello stadio con lo spettacolo gratuito di Vincenzo Liviere alle ore 21.30 in Via Pepe e domani ci sarà il grande concerto di Fiorella Mannoia alle 22.30 all'Arena del Mare nella spiaggia della Madonnina. Insomma un fine settimana che si accende con il cartellone estivo, una chiusura di stagione molto importante, gli eventi sono andati bene anche sfidando spesso il maltempo ma siamo davvero soddisfatti perché migliaia di persone hanno partecipato a questo cartellone estivo che ha reso la città più attrattiva, più turistica e più bella. E ha incantato tutti con i suoi testi poetici e la sua voce particolare. Parliamo del cantautore Roberto Vecchioni che è stato la star della Notte Azzurra di Tottea di Crognaleto in provincia di Teramo. La Notte Azzurra a Tottea ha l'onore di ospitare quest'anno un grande personaggio, un artista davvero poliedrico, autore di canzoni, cantante, scrittore e anche professore universitario. Sto parlando di Roberto Vecchioni. Buonasera professore. Buonasera ma anche amico dell'Abruzzo, dai mettiamoci anche questa cosa perché lo amo, perché ci sono le persone bellissime, meravigliose, pulite, a posto, mi fanno pensare che qui c'è un senso antico della vita, che è il più bello effettivamente e allora non si può fare a meno. So che lei ha detto in passato che non bisogna badare al tempo che scorre, non è quello l'importante, ma il tempo va guardato in una dimensione orizzontale, quindi tutto un insieme di passato, presente e futuro, ovvero quindi dai sogni ai ricordi. No, del tempo non bisogna avere paura, perché se noi cominciamo a avere paura del tempo non finisce più, cioè non dobbiamo avere paura del passato che abbiamo perso e non dobbiamo avere paura del futuro che non sappiamo cos'è. Dobbiamo calcolare un tempo come qualcosa che abbiamo dentro, cioè qualcosa che il ricordi non li perde mai e il futuro lo immagina con i sogni e quindi è un tempo, come hai detto tu, che ci sta dentro e non è il tempo che scorre. Dai progetti per il futuro, cosa bolle in pentola? Allora, io devo ancora presentare il mio libro tante tante puntate, ho tante biblioteche e librerie, e poi ho la mia università che comincia a ottobre, che ho messo sette anni che insegno a Pavia e poi l'anno 21 penso che metterò su un disco inedito, perché sono tre o quattro anni che non ne faccio uno e ho molte idee per la testa e quindi molto probabilmente il 2017 sarà l'anno del disco nuovo. E a Roccafina d'Amo di Penne, in provincia di Pescara, quattro giorni di festa per la Sagra dei Maccheroni e della Trebbiaturia. Vediamo il servizio dei colleghi di Vestina News. Giunta la sedicesima edizione, la Sagra dei Maccheroni e della Trebbiatura torna a colorare la frazione più vivace di Penne, Roccafina d'Amo. Come ogni anno, durante i quattro giorni di festa, verranno ripercorse le antiche tradizioni contadine e gli antichi mestieri artigiani. Un ricco programma che si aprirà giovedì pomeriggio con il taglio del nastro da parte del sindaco di Penne, seguito dall'esibizione del famoso gruppo La Tribù di Farindola. La festa proseguirà anche fino a domenica notte, momento in cui ci saranno i saluti ufficiali delle autorità e la rivederci all'anno prossimo. Il menù è abbastanza ricco. Si parte con la classica gara dello stuccone, tutte le giornate sono sempre impegnate da questo punto di vista con degli artigiani che lavorano. Sabato con la aratura, come si faceva una volta, con i buoi addirittura. E domenica il clou con il raduno dei trattori d'epoca e la classica trebbiatura del grano, come si faceva una volta il tutto, accompagnato con degli ottimi piatti della trebbiatura, appunto, che sono i classici bucatini con il sugo di papera e la papera arrosto. Saranno sempre vari gruppi che si esibiranno, a partire da venerdì sera con il gruppo degli scordati di Farindola, sabato sera con l'esibizione del dubbotto a cura del maestro Pierluigi delle Vedove. E noi ora apriamo la pagina dello sport parlando delle Olimpiadi di Rio della bellissima metaglia d'argento nel torneo olimpico di beach volley a Rio de Janeiro per la coppia azzurra composta dal romano Daniele Lupo e dall'ortonese doc Paolo Nicolai. Nella finale il 2 italiano è stato sconfitto 2-7 a 0, 21-19, 21-17, dai brasiliani padroni di casa e favoriti Elison Cerruti e Bruno Oskart-Smith. Avanti 5-1 il 2 italiano subisce la rimonta dei beniamini di casa che, scrollatesi di dosso, la tensione allungano sul 16-13, con una reazione d'orgoglio gli azzurri risalgono sul 19-18, prima che qualche insolito errore di troppo consegni il primo set ad Elison Smith. Con orgoglio e forza l'Italia non molla e nel secondo set si riporta avanti 10-7, ma la coppia brasiliana, trascinata da un Elison devastante, risale e chiude i giochi nel tripudio di Copacabana. È stato un argento bellissimo, dice Paolo Nicolai, l'obiettivo era la medaglia e ce l'abbiamo fatta. Sognavo la finale, il problema è che sognavo di vincere, ha detto Nicolai. Sul futuro comunque non c'è fretta, ci pensiamo da domani, ora godiamoci questo risultato. E ora siamo al calcio per parlare del pescare dell'attesa sfida di campionato, la prima del massimo campionato di calcio per i biancazzurri che tornano a giocare in Serie A dopo quattro stagioni. Di fronte domenica sera alle 20.45 allo stadio Adriatico ci sarà il Napoli. E Leo Junior e Diego Armando Maradona sono i due fuoriclasse che negli anni 80 hanno illuminato le partite tra Pescara e Napoli. In vista della gara di domenica prossima ripercorriamo i precedenti all'Adriatico, 14 in totale, di cui sei in Serie A. Andrea Costantini. Manca poco all'inizio del campionato di Serie A. Per il Pescara e i suoi tifosi un esordio da brividi con il Napoli vice campione d'Italia. Una sfida che riporta indietro nel tempo con precedenti legati a grandi campioni. Sì perché dall'87 all'89 questa partita è stata tra le altre cose la sfida nella sfida tra Leo Junior e Diego Armando Maradona. Non solo, Pescara-Napoli è stata anche la prima gara in assoluto dei biancazzurri nella massima serie nella stagione 77-78. Un debutto traumatico per la squadra di Giancarlo Cadè, travolta da tre gol nel primo tempo prima della rete della bandiera di Giorgio Repetto nella ripresa per l'1-3 finale. E' stato il primo di sei precedenti nella Serie A allo stadio Adriatico con il bilancio di due vittorie del Delfino, tre partenopee ed un pareggio. Il primo successo biancazzurro datato 2 dicembre 79, 1-0 con gol partita di Cinquetti. In panchina Gustavo Giagnoni sul fronte opposto Luis Vinicio. Nel maggio del 93 il Pescara avviato alla retrocessione e con Zucchini in panchina al posto dell'esonerato Galeone infligge tre reti al Napoli di Bianchi con le firme di Palladini e del compianto Borgonovo, doppietta. Negli anni 80, oltre alle ricordate sfide Junior Maradona, 0-1 nel primo episodio, con rete di Giordano pari a reti bianche nel secondo, resta negli annali il precedente di Coppa Italia, stagione 84-85. La prima partita all'Adriatico del Pibedeoro illuminata dalla rovesciata da terra dello stesso fuoriclasse argentino. Il Napoli domina e vince 0-3 nonostante le parate di Pacchiarotti. L'episodio più recente è invece targato 27 aprile 2013, il Napoli di Mazzarri domina in lungo e in largo sul Pescara di Cristian Bucchi che crolla sotto il tris calato da Inler, Pandeve e Zemaili. In campo dal primo minuto l'attuale biancazzurro Campagnaro, in signe alla prima da ex all'Adriatico. Tra i biancazzurri l'unico superstite Gianluca Caprari. Nel complesso tra Coppa e Campionato in Abruzzo ci sono 14 precedenti, tre le vittorie del Pescara, tre i pareggi, otto quelle azzurre. Per il prossimo episodio appuntamento domenica sera alle 20.45 in una cornice da tutto esaurito. Sul fronte mercato il Pescara attende la risposta affermativa dell'attaccante francese Beck Beck su cui è piombato però nelle ultime ore anche l'Utrecht. C'è intanto l'accordo però tra il Delfino e il Paris Saint Germain proprietario del cartellino del giocatore. La prossima settimana ci sarà la stretta finale per Trotta dal Sassuolo. Intanto la società torna a fare un pensierino su Gianluca Lapadula. Da un lato l'esordio in campionato, dall'altro il mercato. Il Pescara aspetta il Napoli ma il presidente Sebastiani e il Dieste Leone sono a caccia degli ultimi colpi per dare al tecnico Massimodo le risorse in organico per inseguire la salvezza. Il nome caldo delle ultime ore è quello del 23enne attaccante francese Jean-Christophe Baebec di proprietà del Paris Saint Germain lo scorso anno in prestito al Saint-Étienne. C'è l'accordo tra il Delfino e il prestigioso club francese per il prestito con diritto di riscatto. Manca solo la risposta affermativa dell'esterno offensivo nativo di Saint-Denis che riflette anche su un'altra proposta ricevuta dagli olandesi dell'Utrecht. Se i prossimi giorni sono decisivi per Baebec, la prossima settimana potrebbe essere quella giusta per portare in bianca-azzurro Marcello Trotta del Sassuolo. La società del patrone Squinzi spinge per il prestito oneroso che però non piace al Pescara che d'altro canto può sfruttare la voglia di giocare dell'attaccante i cui spazi si sono oltremodo ristretti dopo l'arrivo di Matri. All'orizzonte poi c'è una suggestione, si chiama Gianluca Lapadula, il bomber dello scorso campionato, ora al Milan, sta recuperando dai problemi fisici ma potrebbe essere in fondo alle gerarchie di Montella. Sul fronte centro campo il pezzo pregiato inseguito dal Delfino è sempre Alberto Aquilani per cui è pronto un biennale a cifre sostenibili. Il problema resta la rescissione con la società di appartenenza, lo Sporting Lisbona, le parti trattano per la buon'uscita, per cui resta in piedi la pista a Sanegno Curie in prestito dall'Inter, magari assieme al difensore Eloge Yao. Come resta aperto il fronte Alberto Grassi, il 21enne centrocampista del Napoli, scuola Atalanta, che il Pescara ha chiesto in prestito. In difesa l'arrivo di Gionber, probabile titolare contro il Napoli, toglie il reparto dalla situazione d'emergenza, anche perché da settembre torneranno a disposizione Campagnara e Fornasier, ma si guarda ad un altro puntello. Oltre al predetto Yao, il nome nuovo è quello di Luca Antei, anche egli del Sassuolo. Ufficiale la gestione al Frosinone, infine, del terzino Antonio Mazzotta, in prestito con diritto di riscatto. Noi siamo alla Lega Pro, domani sera amichevole allo stadio Bonolis per il Teramo, che affronterà il Perugia alle 20.30 in casa Biancorossa. Si ravola il esordio in campionato, esordio che vedrà domenica prossima il Teramo giocare in casa del Lumezzane e il tecnico Zauli fa il punto della situazione anche sul mercato e quasi si congeda da Stefano Amadio, che andrà a Latina. Oggi il Teramo a che percentuale è di condizione? Non riuscirei anche volendo, nel senso che stiamo andando secondo me bene, perché ad oggi tutti gli effettivi si stanno allenando per preparare la partita con il Perugia per completare bene questa settimana. Poi entraremo nella settimana del campionato, cercheremo di fare la settimana tipo e portare la squadra in maniera più brillante per affrontare partite di un campionato molto selettivo e molto difficili. Contento di ritrovare Filippo Capitanio? È un ragazzo coordinato l'anno scorso, c'è stata la possibilità di portarlo, è un ragazzo che ha nella sua testa la volontà di fare il calciatore di un certo livello, questo di lui mi piace, viene a completare un reparto già forte e quindi sono assolutamente contento. Di Bulevardi? Ho detto qualche giorno fa, è già qualche giorno che è con noi, abbiamo fatto tutto un ritiro con l'infortunio di Ilari che oltretutto ci ha penalizzato con pochissimi giocatori del centrocampo, quindi l'innesto di Bulevardi è un ragazzo giovane che ha voglia di fare il calciatore, quindi questi sono i presupposti importantissimi per far parte del terramo di quest'anno e quindi sicuramente sarà un giocatore giovane con già un paio di esperienze in Lega Pro e quindi sarà molto importante. Restiamo al centrocampo, Amadio? Ma io ripeto sempre la stessa cosa, ragiono anche un po' da ex calciatore e penso che qualsiasi professionista di qualsiasi campo se potesse migliorare la propria carriera prenda la palla al balzo, quindi i rapporti con Amadio sono ottimi, col sottoscritto, con la società, stiamo valutando se c'è la possibilità per il ragazzo di migliorare la propria carriera, quindi non sarò certo io a togliergli questa possibilità. Detto questo, se salta tutto, io sono il primo a essere contento perché ritengo Amadio un leader di questo gruppo, un giocatore forte e quindi vedremo i sviluppi. È chiaro che non aspetteremo il 28, il 29, il 30 perché dalla prossima settimana è chi si allenerà qui e si allenerà per vincere a Lumezzano, quindi ci saranno dei tempi però questi sono un po' i scenari personali sulla faccenda di Amadio. In corsa per la sostituzione di Amadio ci sono due giocatori in particolare, Matute della Casertana che ha il gradimento anche del tecnico e anche Gaetano Vastola, 38enne, ex giocatore del Lanciano. Noi parliamo proprio del Lanciano perché l'assemblea dell'associazione Lanciano-Rossonera che si è svolta ieri nell'ex casa di conversazione a Lanciano ha nominato il direttivo provvisorio composto da Giancarlo Micolucci, il presidente, Pio Fiore di Vincenzo, vicepresidente, Francesco Di Lello, segretario tesoriere, Luigi Toppeta, portavoce, Andrea Rapino, addetto stampa e alle comunicazioni, Mario Pupillo, Enrico Ciannamea, Alessandro Flamminio, Gabriele Di Bucchianico, Mario Giancristofano, Leonardo Di Florio e Pasquale Giovannelli a comporre l'organigramma. Questo direttivo provvisorio resterà in carica fino al 30 novembre quando il nuovo sarà eletto dai soci. E siamo al basket perché si è radunato ieri il Teramo Basket 1960 con la prima seduta presso il Campo Scuola della Gammarana ammesso nella Serie B Silver poche settimane fa. L'obiettivo è ora quello di riportare entusiasmo attorno alla pallacanestro cittadina, oltre che centrare la salvezza come conferma ai nostri microfoni il neococcio Piero Bianchi. Teramo è una città che ha molta fame di basket perché ha vissuto il basket ad altissimo livello fino a pochissime stagioni fa. Noi faremo il possibile per continuare questo processo di ricreare entusiasmo, riportare gente al palazzetto. è uno dei nostri obiettivi che va di pari passo con gli obiettivi sportivi, cioè dei risultati. Ecco, è una squadra che avete allestito un po' all'ultimo momento perché chiaramente l'ammissione c'è stata in ritardo rispetto alle altre squadre. Questo può essere un ostacolo o è comunque qualcosa che si può superare? È stato un ostacolo all'inizio perché è arrivata la notizia dell'ammissione alla Serie B e c'erano due settimane praticamente per fare la squadra o poco più prima dell'inizio della preparazione. Siamo stati molto bravi perché col poco tempo a disposizione abbiamo, come dicevo anche stamattina, ottimizzato le risorse e quindi siamo riusciti a fare la miglior squadra possibile in rapporto alle risorse economiche e di tempo che avevamo. Abbiamo optato per la conferma di Salamina, La Gioia e Gaeta come continuità con l'anno scorso e i cinque nuovi. Ecco, di nuovo c'è anche la guida tecnica. Cosa ha spinto Piero Bianchi ad accettare questa destinazione? Si sono incontrate le nostre esigenze. Io ero fermo per cui avevo grande voglia di rientrare. Terramo aveva bisogno di un allenatore locale ma esperto e sull'esperienza c'è poco da dire perché gli anni passano e ho alle spalle 25 campionati ormai in carriera e quindi diciamo che le esigenze si sono incontrate nel punto giusto. In bocca al lupo al Terramo Basket noi abbiamo chiuso per quanto riguarda la seconda edizione del TG6. e la terza come sempre alle 23. Grazie e buon proseguimento di serata.